Abbiamo giocato meglio del Valenciennes, questo è positivo. Non siamo nervosi, siamo solo sfortunati, abbiamo avuto tante occasioni ma non siamo riusciti a sfruttarle. Va bene, non cerchiamo rogne, non ci sono problemi. La squadra è buona, è felice. Dobbiamo vincere il campionato il prima possibile, mancano tre partite, c'è tempo per laurearsi i campioni. Ma sì, siamo anche tristi perché potevamo vincere il campionato oggi. Non abbiamo comunque perso la vetta, abbiamo preso un punto e mantenuto il vantaggio sull'Olimpique Marsiglia. È sempre dura giocare in dieci, soprattutto se viene spulso Thiago Silva. Loro hanno segnato nel primo tempo, complicandoci le cose. Sì, un po' d'ansia oggi ma in settimana abbiamo lavorato bene, eravamo solo ansiosi di vincere il campionato. Ma ora c'è tempo fino alla prossima partita che sarà fondamentale per noi, sarà una finale per diventare campioni di Francia. È importante che abbiamo giocare come una finale per essere campionato.